All'imbocco della Val Chiusella, nel territorio del comune di Vidraco, scatterà lunedì 26 febbraio la chiusura per due mesi del tratto di 500 metri della provinciale 61 di Isiglio al confine fra Vidraco e Baldissero Canavese. Il tratto è interessato dai lavori di allargamento e adeguamento della carreggiata. Sino a venerdì 26 aprile il traffico sarà deviato sulla provinciale 64 e anche dopo il periodo di chiusura la 61 sarà interessata da lavori sino alla fine di giugno. Al termine il tratto interessato dal cantiere presenterà una carreggiata di larghezza praticamente raddoppiata e nuove protezioni laterali in acciaio corten sul lato che costeggia l'orrido del torrente Chiusella. Per constatare insieme agli amministratori locali lo stato di avanzamento del cantiere, il vice sindaco della città metropolitana di Torino con delega ai lavori pubblici Jacopo Suppo e il consigliere delegato ai trasporti Pasquale Mazza si sono recati sul posto. È una criticità della viabilità provinciale non indifferente quella che si andrà a risolvere in questi due mesi di cantiere che poi daranno una viabilità definitiva all'inizio dell'estate. Sì, siamo in Val Chiusella, siamo a Vidraco, questo è un cantiere che come vedete è già operativo da qualche giorno, un intervento di allargamento della strada che questo territorio ci diceva il sindaco attendeva da almeno dieci anni. In questi ultimi due anni, grazie a un contributo della regione Piemonte legato ai canoni idrici e grazie a un cofinanziamento di città metropolitana, siamo riusciti a realizzare questo intervento, a incominciare questo intervento che cuba un milione di euro, per allargare la sede stradale, rendere più sicuro un tratto di viabilità provinciale molto frequentato sia dagli abitanti del posto, della Val Chiusella, sia dai numerosi turisti che soprattutto d'estate visitano questo territorio e sia da mezzi pesanti perché qui insiste un'importante attività di estrazione mineraria che grazie a questo investimento sarà agevolata nelle sue attività. Io ci tengo a ringraziare la Cives che è la ditta proprietaria della miniera perché ha collaborato in maniera eccezionale per sbancare il fronte della montagna e rendere possibile questo lavoro, davvero molto molto atteso. Un bel esempio anche di collaborazione tra pubblico e privato. Sì, è vero, è vero, un bel esempio di collaborazione a dimostrazione del fatto che questa era un'opera sentita dal territorio e quando ci sono queste iniziative da portare a casa si fa rete, si fa squadra, ci si mette tutto insieme e si ottengono dei risultati molto importanti. Ricordo quando sono venuto qui a Vidracco un anno e mezzo fa, questo cantiere sembrava lontanissimo e invece oggi abbiamo già un pezzo di montagna sbancato, abbiamo già un banchettone quasi pronto lunedì la strada si chiude e diciamo che è proprio un bel risultato.